Buonasera, oggi parleremo dei giocatori della Lazio che non sono stati piazzati sul mercato e sono rimasti sul gruppone e fuori rosa. Premettendo che ancora fino a tutto settembre ci sono dei calciomercato, dei mercati europei e d'estre europei aperti. Il campionato turco, il campionato serbo, il campionato messicano e quello argentino. La Lazio ha dei giocatori che non è riusciti a piazzare sul mercato e tra questi possiamo trovare Johnny, Adecagne, Dormisi, Lombardi, Rossi e Lukaku, il fratello del Lukaku famoso che sta al Chelsea. Per quello che riguarda Johnny e Dormisi, secondo me qualche possibilità di darli via ci sarebbe se si potrebbe valutare il mercato turco. Anche se non credo che questi giocatori abbiano voglia di andare a giocare in Turchia, Adecagne, 21 anni ci si potrebbe ancora puntare su, anche se io l'avrei dato in prestito o in Serie B o addirittura in Serie C o in qualche campionato minore. Lombardi e Rossi secondo me, a mio avviso, sono state due delusioni. Lombardi era partito bene, alla prima partita in esordio subito gol contro l'Atalanta. Rossi una valanga di gol in primavera. Poi con il prestito in giro per l'Italia, specialmente a Salernitana e altre squadre minori, ma non è mai stato incisivo. Anche perché si sa quando hai giocatori in prestito è difficile trovare squadre che sono disposti a far giocare con continuità dei tuoi giocatori. Poi vabbè, comunque c'è anche Vapro che è stato rintegrato in rosa, ma non dà garanzie per il momento. Secondo me l'unico giocatore che potrebbe in un futuro prossimo rilanciarsi è Lukaku. Lukaku che ha dimostrato di avere buona gamba, buona corsa e anche cross interessanti. Infatti fece un assist nella finale di Supercoppa contro la Juve per il gol del definitivo 3-2 di Murgia. E comunque sono giocatori che sono a bilancio e devono essere pagati. Spero che la Lazio riesca a disfarsene presto oppure a rilanciarli in qualche modo. Perché è un peccato come tutte le società in qualsiasi campo, tenere gente a stipendio e praticamente farla allenare e non farla giocare. Quindi la paghi e produce zero questa squadra. È come se un operario dentro una fabbrica viene pagato e non produce. Detto questo, buonasera a tutti e al prossimo video. Grazie a tutti. Grazie.